Ben trovati all'appuntamento con la rubrica dedicata ai principali cantieri attivi questa settimana in Campania. Partiamo dalla 2 del Mediterraneo dove sino al 20 aprile nella fascia oraria 8-17, esclusi giorni festivi e prefestivi, per un cantiere attiva la riduzione di carreggiata nel tratto compreso tra gli svincoli con Tursi e Polla in direzione Reggio Calabria in tratti saltuari. Sulla strada statale 7-4-Domiziana sino al 15 maggio per lavori si procede a carreggiata ridotta nel tratto compreso tra le uscite Mondragone e Pesco Pagano in entrambe le direzioni. Passiamo alla strada statale 145 Sorrentina dove sino al 14 aprile per lavori è chiuso lo svincolo Gragnano in ingresso in direzione Sorrento. Uno sguardo alla strada statale 268 del Vesuvio dove sino al 20 aprile per lavori è chiuso il tratto compreso tra gli svincoli Ottaviano zona industriale ed Ottaviano centro in direzione Napoli. Passiamo alla tangenziale di Salerno dove sino al 28 aprile nella fascia oraria 22-6, esclusi giorni festivi e prefestivi per lavori è chiuso il tratto compreso tra le uscite Sala Bagnano e Fratte in direzione Fratte. In chiusura ancora la tangenziale di Salerno dove dalle 22 di martedì 3 alle 22 di lunedì 30 aprile per lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza del viadotto Cristoforo è chiusa la rampa d'ingresso dello svincolo via Irno in direzione nord. Beh tutto, grazie per l'attenzione.